Salve ragazzi carissimi ceder web, Andrea Bruno. Faccio questo video per raccontarvi quello che sta succedendo in Ucraina, la guerra in Ucraina raccontata secondo un punto di vista obiettivo e faccio questo video proprio dal profondo del cuore perché sto vedendo che i media stanno raccontando un mucchio di falsità e menzogne perché sono copartecipi alla propaganda di regime. Allora magari inizialmente questo video non sarà molto interessante però nel complesso quello che sto per dirvi aprirà gli occhi a tantissime persone. È appurato che chi difende il proprio territorio da un'aggressione nemica è molto più motivato e quindi combatterà in maniera più efficace rispetto a un aggressore. Questo è puramente appurato anche solo a rigore di logica. Quindi cosa abbiamo? abbiamo un aggressore, abbiamo dei combattenti, dei soldati che stanno difendendo il proprio territorio, quindi le proprie case, la propria gente, la propria famiglia, i propri affetti, la propria cultura, da quello che è un aggressore che non ha nessuna remora morale perché il suo intento è solamente quello di infierire perché è mosso da chi c'è dietro alle spalle. Quindi abbiamo un'entità che attacca che viene mossa da entità superiori che ne tirano le file. Adesso qualche cretino che sta sentendo questo video quando ho parlato di aggressore e gente che difende la propria patria perché questo che vanno stamburellando i media ha pensato che intendessi che l'aggressore sia Putin e chi difende la propria patria siano gli ucraini. Perché è questo che sto vedendo nel sottinteso quando si parla alla televisione. Ma chiaramente uno che sa come sanno le cose quando parla di aggressore, gente che difende le proprie case e lo fa con grande efficacia perché quelli sono i suoi affetti, non vado a pensare a Putin che sta invadendo l'Ucraina, ma sicuramente questo è lo scenario di alcuni golpisti mossi dagli americani, tirati fuori fra le file delle tifoserie calcistiche neonaziste, naziste, vengono mandati a combattere a casa di chi russofono difende i propri interessi e a questa gente qua, battaglione ASO, battaglione IDAR, Pravi Sector e tutte queste entità qui neonaziste, non gliene frega un cavolo dei civili, se ne fanno scudo, entrano nelle loro case, nei condomini, salgono gli ultimi piani, buttano fuori le famiglie che ci vivono, si appostano con i cecchini e questo causa anche grande sofferenze tra i civili perché questi vigliacchi non sono capaci di combattere in uno scerenario di guerra, ma combattono all'interno nei centri abitati dove vive la popolazione civile per farsene scudo. Quindi fino a che se la guerra verrà mossa nella zona russofona saranno molto forti perché a questa gente qua, non fregandogli nulla della popolazione, li usano come scudo e questo dà un elemento di forza queste vigliacche qua. Però già oramai parte dell'Ucraina è stata denazificata, la parte russofona, il loro problema sarà da qui a breve quando poco più avanti non avranno più territorio russofono da potersi fare scudo tra i civili. Quindi cosa succederà? Non appena verrà conquistata questa lingua di terra, poi verranno accerchiati gli elementi rintanati e quindi dovranno capitolare, le retrovie perderanno completamente di efficacia perché la loro tattica, l'unica che conoscono, non può funzionare perché non possono prendere per ostaggio e farsi scudo della loro gente. Questo è quanto. Allora, quindi grandissimi esperti, opinionisti dei miei zebedei che in televisione quando alludete a un aggressore gente che difende la propria patria, chiaramente nelle vostre parole una persona che sa quello che sta succedendo non riesce a capire perché a un certo punto mi sa, cioè questi termini per una persona che conosce cosa succede, si riferiscono ad entità differenti a quelle della vostra propaganda. Quindi siete lì che parlate con termini anche impropri, cercando di costruire il vostro castelletto che chi capisce le cose non comprende quello che dite e chi comunque non sa tanto bene le cose vedendo video, vedendo informazioni, c'è un mar di informazioni, ci sono informazioni documentate da quei a otto anni va anche a capire che siete dei vigliacchi pagati a soldati per via indiretta, non lo dico che prendiate soldi direttamente nel conto corrente, però siete nell'indotto di chi questa guerra la deve fare. Io vi racconterò esattamente quello che è lo scenario di guerra attuale e tantissime di loro risvolte. E chi mi conosce sa quanto sia attendibile perché sono stato l'unico occidentale presente nella zona, sono stato bloccato tre mesi quando c'è stata la guerra tra la Georgia e la Russia, sono stato l'unico presente a vedere come hanno trainato le Repubbliche Baltiche o lì sul posto quando distribuivano i gadget, facevano le manifestazioni in piazza e so tutto il meccanismo di quando hanno tirato dentro per esempio le Repubbliche Baltiche nell'Unione Europea. So molte cose, conosco gli istruttori generali della Nato, gli esco assieme a mangiare, gli sono uscito assieme a mangiare. So tante cose, conosco anche dal fronte di vista russo tantissime cose non per via in diretta, per via diretta, dato che ci ho avuto anche a che fare in modo professionale e chi mi conosce sa che ho queste conoscenze e quindi risulto agli occhi della mia community una persona informata sui fatti e molto attendibile. Questo un po' per chiarire anche che quelli che vanno in televisione pagati, sponsorizzati, la televisione stessa come tutti i media fanno parte di una propaganda politica, io invece sono una persona informata sui fatti e vuole fare un po' di chiarezza perché, scusatemi italiano, vivo all'estero da decenni, perché essenzialmente dà anche fastidio vedere tutte queste menzogne e tutta questa falsità. Allora, vado avanti a braccio, non ho un discorso preparato, però il mio discorso è molto efficace. L'altra settimana ero, questo non avevo fatto incontro di raccontarvi questo episodio, però ve lo racconto perché è emblematico. Di sera ho conosciuto una signora, una donna sposata con un militare ocarino che sta combattendo, rifugiatasi in Estonia, anche qui in Estonia ci sono, è molto un analogo perché anche qui abbiamo le zone neonaziste e che sostengono la propaganda. Una signora che ha il marito, soldato militare che in questo momento sta combattendo. E così parlando al Bavar, io gli ho spesso la mia opinione, anzi non la mia opinione, è un fatto, io ho detto che se anni ha la possibilità di chiedere anche al suo marito di togliersi dei coglioni perché la guerra è comunque una cosa atroce e terribile e che comunque non vale la pena rischiare perché alle sue spalle dietro non abbiamo tanto un desiderio di dover difendere la propria patria e i propri affetti, ma abbiamo una guerra che è stata ordita dagli Stati Uniti, finanziata dagli Stati Uniti con il golpe del 2014. Io ho detto questo, ho detto quella che secondo me era la mia verità. Questa donna è uscita di fuori perché probabilmente quello che gli ho detto l'ha colpita si è messa a piangere e forse anch'io, però è stata l'entrata nell'argomento, io quando esco di sera non me ne frega un cavolo di parlare di Ucraina e di guerra, mi piace parlare delle Ucraine ma non dell'Ucraina. Cosa è successo? Siccome in Estonia, un'altra zona neonazista, qualcuno l'ha vista piangere, è andato lì e stava per scoppiare un caso diplomatico, se non qualcosa di più grosso, perché praticamente io avrei fatto piangere una profuga raccontando che la guerra in realtà era ordita dagli americani e quindi chi fuori ha visto la donna piangere è entrata dentro a parlare con me di petto e qui è la cosa più interessante di quello che sto raccontando. È arrivata anche la donna che stava piangendo e a questi ragazzotti qua neonazisti che volevano prendermi di petto li ha guardati piangendo e ha detto io mi sono messo a piangere perché questo ragazzo qua ragazzo, questa persona qua, non mi ha chiamato, questo mi illudo io che mi chiamo un ragazzo, ho la mia età, mi sono messo a piangere perché sta dicendo la verità, questo è qua, pensate questi come ci sono rimasti male, perché? Perché la verità è questa, chi combatte sa la verità, tanti, molti combattono perché nei piani, questo si era capito ma voi non avete le tessere del puzzle quindi ve lo metto io, ve le compongo io le tessere del puzzle così avete un quadro più preciso nei piani della Russia mi avviera già un accordo sotto banco tra le forze militari ucraine che una volta entrati e raggiunte le porte di Kiev non avrebbero dovuto combattere perché la Russia comunque non ha interesse a fare una guerra porta per porta nelle grandi città e coinvolgere e massacrare la popolazione civile indirettamente vi era un accordo che una volta entrati le forze militari che non sono filoamericane perché l'Ucraina guardate quando si votava liberamente vinceva più spesso le elezioni il fronte filo russo che quello filo ucraino cosa è successo? Vi era questo accordo che le forze militari ucraine stesse avrebbero dovuto togliere dai coglioni il governo formato da un manipolo di neo nazisti questo era quello che era stato pianificato entrava la Russia e l'esercito stesso ucraino avrebbe dovuto liberare la patria da questi occupanti messi lì dagli americani ecco questo già vi fa capire tantissime cose cosa è successo? chiaramente a Washington nei palazzi di vetro dove vengono tirate le fine ad ogni mossa come in una partita scacchi c'è una contromossa immediatamente hanno promesso, hanno finanziato poi loro organizzano, ma paghiamo noi perché è l'Unione Europea che poi dà questi soldi di dare 100.000 grimmie a ogni soldato che combatte quindi cosa è successo? faccio un salto indietro per capire anche qual è la situazione militare in Ucraina in Ucraina abbiamo due eserciti, quello regolare e quello paramilitare che è fatto di tutti questi battaglioni qua neo nazisti quello regolare è una lunga storia e sono tutti militari di carriera tanti nati con il passaporto dell'Unione Sovietica, neanche quello dell'Ucraina e quindi si sentono più parte di un mondo che non è esattamente quello occidentale quindi abbiamo un esercito che è quello regolare che non è prettamente schierato filo americano e abbiamo questi battaglioni che sono nati con un golpe ordito dagli Stati Uniti d'America nel 2014 quindi al suo interno abbiamo già un attrito abbiamo un attrito che abbiamo una forza militare regolare che non vorrebbe combattere comunque l'Illirestia e anzi era propensa a destituire questo burattino qua messo lì dagli americani un attore e dall'altro abbiamo queste forze neo naziste fatte con elementi raccattate dalle tifoserie hooligans delle squadre calcistiche tatuati che ormai tutti conoscete che sono mandati sul fronte a combattere addestrati direttamente da istruttori americani adesso avete già un elemento in più per capire questa guerra in Ucraina però tanti danno è lei e Zelensky è stato eletto democraticamente ok parte c'è di verità parte c'è di falsità perché alle elezioni non ha potuto partecipare l'Ucraina occidentale perché non ha mai accettato il golpe e quindi si è resa autonoma anzi più che si è resa autonoma il restante dell'Ucraina è stata staccata dalla Costituzione quindi Kiev si è staccata lei quando c'è stata il golpe e per assurdo la parte che adesso viene ritenuta separatista in realtà è quella fedele al principio costituzionale dell'Ucraina che non ha accettato l'ingerenza esterna ok questo tanto per far capire un po' di più come avete capito vi sto aggiungendo tanti pezzi tanti pezzi del puzzle in modo da avere una visione globale circa quello che sta succedendo Zelensky è diventato presidente primo con una grande azione mediatica creando uno show televisivo uno spettacolo dove lui già giocava il ruolo di presidente vi è tutta una macchina che ha creato il presupposto per portare questo personaggio alla presidenza e l'ho fatto cavalcando la lotta contro gli oligarchi sono quei messaggi spot chi è che non è contro l'oligarchi? tutti quindi gli hanno creato un messaggio spot per poi andare a capire tramite i capitali nascosti all'estero che Zelensky che si è proposto come anti-oligarcha si è capito che il più grosso oligarcha è lui quindi ha preso per il giro tutta l'Ucraina tutti gli ucraini e adesso c'è anche un grande malumore e tra le altre cose la sua campagna elettorale era basata con la lotta contro la lotta agli oligarchi e alla pacificazione tra est e ove su Ucraina quindi far cessare il fuoco a questi battaglioni neonazisti che con le bombe sono otto anni che vanno a infierire contro la popolazione civile quindi ha cavalcato delle cose nobili dove nessuno tira contro per prendere un posto di potere e poi una volta instaurato al potere si è dimostrato per quello che è ovvero un burattino messo lì dagli americani con falsità e menzogne che molti, gran parte degli ucraini non lo possono vedere a questo punto perché hanno capito che ha preso per il culo per i fondelli tutti quanti e quindi questo fa parte anche del piano di guerra questa guerra non è stata incominciata e portata avanti dalla Russia è stata incominciata dagli americani e stanno compiendo tutti i passi necessari per coinvolgere la Russia all'interno di questo conflitto bombardare e massacrare tutti i giorni la popolazione civile del Lugansk e del Donbass cosa vuol dire? che può difendersi limitatamente e gente che difende le loro case sono ex minatori ex operai insegnanti che hanno imbracciato studenti che hanno imbracciato le armi per difendere la loro patria contro un esercito organizzato e foraggiato dagli americani un popolo russo e questa era una mossa creata d'arte sapendo che prima o poi un popolo russo sarebbe stato difeso dalla Russia questa era una mossa conseguenziale non dovuta e voluta dalla Russia ma una conseguenza di presupposti creati ad arte adesso avete capito qualche cosa in più e quindi adesso vi aggiungo altre cose che renderanno questo video ancora più interessante non solo sta succedendo questo ed è successo quanto vi ho raccontato in Ucraina attualmente cosa abbiamo? quindi abbiamo dei soldati che combattono lo sanno che la Russia ha ragione che il Donbass ha ragione che la guerra che stanno combattendo è ordita dagli americani ma prendono 100.000 crimini al mese una somma che in grandi zone non parlo a chi io chiaramente non parlo a destra ma nel 90% dell'Ucraina uno, due stipendi ci compri una casa cioè avete capito che la motivazione che viene data a queste persone economica è più forte di quella morale vuol dire che tu ti fai due mesi e ti puoi comprare la tua casetta nella campagna l'appartamentino nella cittadina e così con solamente due mesi di lavoro e magari neanche in quei due mesi lì ti mandano a fronte perché ci sono anche ruoli ti mettono nel magazzino ti fanno fare le consegne vai al fronte e prendi le armi che sta consegnando all'Italia per andare a combattere tutte queste cose qua quindi abbiamo gli americani che da un lato hanno addestrato i battaglioni neonazisti e dall'altro lato per tenere dalla sua l'esercito regolare hanno dato disposizione all'Europa quindi con soldi nostri di mandare all'Ucraina quantità ingenti monetarie per poter garantire queste 100.000 grivne al mese che sono l'equivalente di una casa in Ucraina per far sì che fosse sventato il piano iniziale della Russia che era quello che una volta entrati non avrebbero trovato grandi resistenze anzi l'esercito ucraino sarebbe stato dalla parte russa quindi abbiamo un nemico che strategicamente economicamente molto forte perché la guerra non la vuole far cessare perché butta come tu sei stanco di combattere non vuoi imbracciare le armi o hai qualche rimona romana morale prendi una mazzetta di soldi te la butti in bocca e te sei incoraggiato ancora ad andare avanti ancora un po' e questo è quello che sta succedendo chiaramente uno scenario di questo tipo cosa presuppone lo stato maggiore ucraino non è libero di ovvero sta dando i comandi organizza dà indicazioni porta avanti una strategia di guerra di guerra che però al suo interno ha istruttori americani in una forza parallela e gli istruttori americani a Kiev hanno facoltà di disdire cambiare e annullare ordini dell'esercito ucraino cioè avete capito abbiamo un'entità esterna presente sul posto che può annullare disdire e cambiare gli ordini dello stato maggiore di un esercito e in più può aggiungere degli ordini suoi quindi cosa abbiamo abbiamo carne da cannone da un lato e dall'altro un guerra fondario che ha ordito tutto si molti diranno si l'Ucraina è piena di sorge non è quello l'obiettivo l'obiettivo come sono più di dieci anni che parlo di questa diatriba tra Russia e Stati Uniti l'obiettivo non è quello di mettere al sacco l'Ucraina quello è uno step è quello di mettere al sacco alla Unga la Russia che è lì che sono le maggiori risorse se in Ucraina ci sono risorse mineralie carbonifere agroalimentari per cento ma quante volte è grande l'Europa solamente la Siberia quante volte e quindi abbiamo che sto ordendo questa guerra gli americani che lo fanno anche loro per interposta persona qual è il burattinaio ultimo la guerra in Ucraina è tirata dalle file di una entità costituita dai capitali finanziari e monetari è questa l'entità che sta muovendo la guerra è un'entità sovranazionale di capitali finanziari e monetari per i quali non gliene frega nulla di discorsi morali andare a difendere chi è stato aggredito ma sono mossi da interessi quindi di natura finanziaria monetaria che possono essere a breve a lungo termine più che altro sono tutti ragionamenti a lungo termine e questa entità sovranazionale si era capito per lo meno chi sta seguendo le notizie negli ultimi 5-6 anni cercando di capire come mai si intravede in fenomeni avvenimenti una sorta di coordinamento un'entità sovranazionale si era capito che quindi anche tutto il discorso del virus del coronavirus quello che c'era prima che sembrava che quello che accadeva in uno stato poi gli stessi provvedimenti le stesse tattiche gli stessi sbagli venivano replicati esattamente in tutto il mondo occidentale quindi abbiamo visto che c'era un burattinaio unico un'entità unita che non si riusciva a capire esattamente chi fosse a coordinarla però vi è un organo sovranazionale che prima faceva gli interessi del Big Pharma e siccome l'entità è sempre la stessa tutto lo strascico tutto l'entourage tutto quello che viene a lei ha servito adesso prima era dalla parte del Big Pharma e strombettava e faceva propaganda per quel fronte lì guidato da questa entità sovranazionale adesso sta facendo la stessa cosa dell'Ucraina adesso non ci vuole una mente geniale per capire che gli avvenimenti in Ucraina la propaganda mediatica e questa sensazione che ti fa sentire in balia di satrapi di una sorta di dittatura nascosta non c'è un genio per capire che questa entità nascosta è la stessa che c'era anche prima con il coronavirus quindi parliamo di un popolo quello europeo quello occidentale quello americano che è ostaggio di queste masse economiche finanziarie monetarie di cui anche Draghi è un degno rappresentante ecco questo è quello che sta succedendo vi ho fatto un video di 30 minuti per molti ha aperto gli occhi ho fatto un quadro d'insieme e spero che condividiate questo video tra i vostri amici perché l'unica arma che abbiamo per difenderci noi sottomessi annichiliti perché siamo stati tappati in casa voi io che va all'estero degli anni parane con la scusa del coronavirus ma il fine ultimo era annichilirvi togliervi il vostro spirito combattivo voi dovete condividere questo video in modo che la consapevolezza possa essere l'unica arma che abbiamo per difenderci io non ne vedo altre ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti